cielo the world coloriamo il mondo di giallo questo è il nostro hashtag è l'hashtag iniziato da noisy vision e per noi è un modo per rendere il mondo più visibile alle persone ipovedenti per questa settimana a partire da oggi gli amici di progetto 51 ci aiuteranno a promuoverlo facendolo diventare uno degli ospiti degli hashtag ospiti del loro progetto che dura 51 settimane e per questa settimana l'hashtag della creatività sarà yellow the world iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale instagram è un social network quasi prettamente visivo ma yellow the world vuol dire anche questo cercare di renderlo più accessibile alle persone cieche quindi d'ora in poi aggiungi il testo alternativo alle foto così anche i ciechi potranno sapere cosa c'è rappresentato grazie grazie a tutti grazie a tutti